vi presento la colazione più buona del mondo numero uno al mondo number one da oggi si comincia la dieta dopo che mangio questo bisogno di questi dopo che mangio questo bisogno di questi allora eccoci qua stasera la bobo tv abbiamo il più grande streamer d'italia il grande zano ci vediamo stasera ore 21 ventola ma scrittura bobo non mi devi taggare come si vede perché evidentemente evidentemente ho sbagliato a taggarlo lui si preoccupa perché vuole essere taggato questa è la vita da bomber sogno una vita da bomber raga non vedo assolutamente niente spero che sta registrando ma è online il video lo squad builder dell'italia fa state presente dopo giocare andiamo avanti a giocare in vl quindi se volete sapere quella squadra fate i suoi pack ragazzi tra 20 minuti anzi 12 minuti ci sarà la bobo tv ci sarà il grande zano con noi ok alle 21 e 45 però volevo ringraziare buy techno per tutto il materiale che mi ha dato qua guarda qua questo non so come cazzo si chiama cuffie microfono luci computer ipad anche se non c'entra niente comunque grazie buy techno gentilissimo grande cocò e c'è la cocò qua fuori grande cocò e c'è la cocò qua fuori giurata fa dimagrire ragazzi ricordate non fa ingressare fa dimagrire finita la bobo tv che si fa si corre senza luce al buio ultimo giorno di dieta e quindi ci stava l'ultima corsa poi ne farò altre chiaramente perché fa